Oggi presentiamo questo progetto che si chiama Sicilia Vola, che mette a disposizione 65 milioni di euro, 50 milioni di euro per il 2020 e quelli che non saranno utilizzati e andranno a sbalzo nel 2022 e 25 milioni appunto per già per il 2022 che sono previsti. Cosa dice? Quattro categorie, studenti polisede, lavoratori polisede, persone che vanno a curarsi fuori dalla nostra regione e disabili gravi e gravissime potranno volare da e per Catania e Palermo verso tutte le destinazioni europee. Questo è un modo per, come dire, aggredire quella che è il cosiddetto carovoli. Certamente abbiamo bisogno delle compagnie aeree che devono in qualche modo aderire a questa iniziativa del Ministero delle Infrastrutture. In questo momento abbiamo Alitalia e Blue Air. A settembre ingloberemo anche EasyJet, Otea, ma dobbiamo comunque fare crescita sempre più la famiglia di tutte le compagnie che appogliano a capire. Al 5 di agosto sarà possibile registrarsi direttamente sul sito, adesso vi farò vedere come. Molto semplice, molto chiaro, appunto il sito siciliavola.it. Le persone aderenti a queste quattro categorie potranno andare direttamente sul sito, accreditarsi, registarsi e avere un codice a far meglio.